Freschi di nozze, la famiglia Ramazzotti ha scelto vacanze casalinghe. Quest'anno niente mete esotiche ma la riviera romagnola con le figlie Aurora e Raffaella Maria. Al seguito però anche il solito bagaglio di gossi. I fotografi di chi, infatti, hanno immortalato la coppia in un momento di intimità. Niente di scabroso, solamente una seduta esterta per il povero Eros, che non sembra gradire particolarmente. Sul balcone dell'albergo di Milano Marittima, infatti, Marika è stata immortalata mentre, armata di pinzetta, sembra intenta a liberare il marito dai peli superflui. I giornali hanno immediatamente ribattezzato Marika, la moglie Gescia di Ramazzotti. Che dire, a noi non resta che fare tanti tanti auguri ai due piccioncini.